Ok, la registrazione ha avuto inizio e veniamo a parlare di che cosa trattiamo oggi. Oggi facciamo una lezione che riguarda due grandi macro aree, chiamiamole così, diciamo una un po' più tecnica riguardante il modulo della pallavolo, una come al solito un po' più metodologica che riguarda comunque lo sport di squadra in genere e nel dettaglio ci focalizziamo nella prima fase sull'allenamento alla coordinazione. Cerchiamo di capire un po' dove sono gli estremi, cerchiamo di capire quali sono le strutture implicate, cerchiamo di dare una visione un po' più solida, consistente sotto il profilo metodologico e sotto il profilo tecnico di questo aspetto che normalmente ha una visione abbastanza, come dire, soggettiva, approssimativa, poco strutturata, e l'obiettivo della mattinata è cercare di capire un po' di più che cosa ci sta a monte in maniera da poterne fruire al meglio. E poi ci focalizzeremo sull'ultimo fondamentale tecnico che ci manca, che è il muro, nella pallavolo, però nel dettaglio vorrei, anche in funzione di quelle che sono le analisi preliminari che faremo sulla coordinazione, dare un taglio anche, come dire, di analisi tecnica, non soltanto dell'effettiva esecuzione pratica del gesto in sé, ma proprio parlarne anche un po' su quello che sono le strutture implicate, il background, quello che sta un pochettino a monte della poi mera movimentazione, ok? Quindi ovviamente faremo un'analisi riguardante lo sport, però abbiamo anche questo tipo di taglio che mi piacerebbe affrontare con voi per, anche un po' per consolidare quelle che sono le nozioni che cercherò di passarvi nella prima parte di metodologia. Passerei a condividere il mio schermo. Ok. Ok. Diciottesima lezione di venti, siamo ormai abbastanza in dirittura d'arrivo del nostro percorso e procederei con, al solito, un quesito per voi. Che cos'è la coordinazione, e aggiungerei coordinazione motoria, perché è definita così importante all'interno della, diciamo, della struttura, del piano d'allenamento? Vorrei avere una vostra opinione, vorrei, come al solito, che qualcuno si sbilanciasse in chat o microfono e mi dicesse qual è la sua definizione, qual è la vostra definizione di coordinazione, perché a volte può essere un po' più vaga. Quindi, parlando di coordinazione, secondo voi, come la definireste? come, in che canoni la proporreste, ecco, doveste definirla, ovviamente coordinazione motoria, eh, in chat o a microfono, qualcuno che mi dica, mi dia una definizione, se, insomma, diciamo, armonia dei segmenti motori, che parte già una tematica. che è quella della armonia, eseguire un qualsiasi movimento corporeo in modo efficace, quindi abbiamo già una parte di efficacia, efficienza all'interno degli schemi motori, una parte abbastanza correlata per quanto riguarda la, l'armonia. unioni di più schemi motori nello stesso istante, quindi parliamo anche di contemporaneità, contestualità, movimenti simultanei di segmenti motori differenti tra loro. siamo anche qui sull'idea del, diciamo, della, della complessità, della, diciamo, della, della qualità, insomma, siamo in un'area, lei ci aveva detto che, aspetta un po', qui, Elio, riprodurre bene, è vero, esatto, infatti Elio adesso ne parleremo, bravo che te lo ricordi, più movimenti differenti tra loro con il minor dispendio di energia, buona questa visione anche di Claudio. sono tutte cose corrette, ragazzi, tutte cose corrette e che vengono appunto, diciamo, da, da dover coordinare sotto un grande cappello che è il cappello della qualità, cioè tutto quello che voi avete detto, no? se ci pensate, è da ricondurre alla qualità dei movimenti, a un discorso di gestione efficace, armoniosa, complessa, con implicazione di più distretti, di più schemi, tanto più a cui un discorso di economicità, quindi minor dispendio energetico, siamo in un'area molto qualitativa. Come un vostro collega ha anticipato, possiamo definire in maniera assolutamente, quello che ha, quindi, caratteristiche coerenti con la coordinazione. Questa definizione ci dà un'idea di base su cui andremo a costruire quello che è tutto il, diciamo, la chiacchierata di questa, di questa lezione. Quindi, la coordinazione motoria può essere definita come la capacità di figurarsi un'azione motoria nella propria mente e replicarla con fedeltà nello spazio reale. Quindi, di fatto, l'azione che viene condotta all'interno del corpo è quella di avere un progetto in testa e cercarlo di riprodurre in maniera più fedele possibile, ricopiarlo. Tanto più il modello è fedele, tanto più probabilmente, e tanto più io sono bravo nel riprodurlo, tanto più l'effetto finale, il, diciamo, l'outcome che viene fuori da questo processo, no, di riproduzione, a partire da quello che è il modello e poi quella che è la riproduzione nello spazio in pratica, sarà armonioso, coordinato, preciso, con un dispendio energetico ridotto, efficiente, tutta questa idea di qualità che è già anche emersa da quelle che sono le vostre definizioni fondamentalmente. Quindi, ricordiamoci che il progetto parte da qualcosa che il soggetto ha in testa. E allora cosa succede? Tanto più noi siamo bravi a creare modelli, quindi a creare progetti da poter fruire per poter essere riprodotti, tanto più probabilmente andremo a incrementare la capacità coordinativa. Questo è l'idea che sottende a tutta la nostra trattazione. Quindi più modelli ho in testa, più progetti ho in memoria, tanto più avrò delle skills, delle abilità da poter riprodurre e probabilmente, ammesso e non concesso che sia poi così, avrò più possibilità di produrre nello spazio questi modelli. Quindi un maggior bagaglio più ampio sotto il profilo coordinativo. E quindi bisogna capire come facciamo ad instaurare questi progetti. Perché se non sappiamo come inserire il progetto nella testa dei ragazzi che andiamo ad allenare, diventa un problema poi riprodurlo nello spazio. E per, diciamo, avere comunque un quadro generale coerente e sapere dove puoi andare a parare fondamentalmente, quindi capire dove devo andare a cercare la stimolazione, devo sapere quali sono le strutture che vengono chiamate in causa durante questo tipo di processo. Quindi, diciamo che siamo su due grandi fasi. Una fase in cui inserisco il modello all'interno della testa, quindi inserisco il progetto da dover poi replicare e poi la replica effettiva nello spazio. Che cosa mi serve per fare queste due cose? Ci serve delle, diciamo, delle strutture che poi dovranno essere stimolate, dovranno essere chiamate in causa, potenziate per far sì che il processo sia il più fluido possibile. E in fattispecie dobbiamo parlare di certo di coinvolgimento delle vie efferenti. Quindi, dai sistemi di controllo centrali alle periferie. E questo è ovvio, se io devo muovermi nello spazio, un comando centrale deve partire per far muovere gli schemi di stali, per farmi muovere fisicamente il braccio, il piede, la gamba nello spazio. Quindi, di certo, abbiamo una parte che è dedicata alle vie efferenti. Abbiamo la necessità di stoccare da qualche parte questi modelli e quindi dobbiamo necessariamente chiamare in causa la memoria, l'apprendimento e il modeling. Cioè, la stimolazione viene effettuata, viene imparata, tra virgolette, e deve essere in qualche maniera stoccata da qualche parte. Dobbiamo salvare da qualche parte sul nostro hard disk un progetto. e quindi sapere come memorizziamo, come apprendiamo e poi, logicamente, di conseguenza, come riproduciamo. E a quel punto, per imparare, perché per imparare devo, cioè per memorizzare, scusate, devo vedere, imparare, fare mia, fare mie delle abilità, e allora a questo punto diventano anche focali le vie afferenti, cioè quelle che dai recettori periferici portano alle vie centrali. Quindi, per poter creare memoria e apprendimento, devo vedere, devo imparare, attraverso quelli che sono i recettori distali che portino centralmente il modello, che porti, diciamo, al sistema nervoso centrale, la costruzione di un modello stabilizzato, che poi venga rilanciato e prodotto nello spazio. Quindi, siamo su tre grandi macro-aree, e tutte e tre devono essere efficienti, perché se me ne manca una di queste tre, il sistema non funziona. Se ci pensiamo, se non sono capaci di riprodurre, allora io posso avere tutti i modelli che voglio, ma se poi non li so fare nello spazio, non serve a niente. Se non riesco a memorizzare, se non riesco a stabilizzare, allora probabilmente non riuscirò neanche a riprodurre. E se non riesco a imparare, se non riesco a stabilizzare, se non riesco a creare modelli, allora non avrò niente nel mio hard disk centrale da poter poi riprodurre nello spazio. Queste sono le tre cose che dobbiamo tenere in considerazione. E a questo punto, in qualche maniera, seppur sommaga, seppur assolutamente esemplificata, dobbiamo conoscere le strutture che sottendono a questi vari processi. Che cos'è che ci fa fare un movimento nello spazio? Che cos'è che ci fa stabilizzare, memorizzare e imparare nella mia testa, salvare nel mio hard disk il modello? E poi mi aiuta, che cos'è che mi aiuta a imparare? E quindi dobbiamo conoscere, ripeto, in maniera molto, seppur molto sommaria, ma molto, diciamo, schematica, almeno, come quali sono le situazioni che vengono chiamate in causa. Che cosa facciamo? Che cosa fa il nostro corpo quando proviamo ad imparare e a replicare qualche cosa? E dobbiamo suddividere il sistema in tre grandissime, diciamo, tre grandissime soglie di implicazione, diciamo, tre filtri, in cui il sistema nervoso centrale può essere suddiviso. Partendo dalla, diciamo, quella che viene definita la più corticale, la più ragionata, la più, come dire, anche se vogliamo più fine, sotto il punto di vista dell'attuazione, dell'implicazione, la listanza di più alto livello è quella della corteccia celebrale. Per darci dei riferimenti proprio da campo e sempre con la premessa che poi io adesso ve li schematizzo, ma poi in realtà ci sono delle implicazioni, dell'interazione tra i vari sistemi, ma questo non è, diciamo, materia nonostrana, nel senso che quella è più un'idea più di neurofisiologia, delle neuroscienze. Qui a noi ci serve per capire che cosa dobbiamo fare per allenare, ok? Quando parliamo di corteccia, parliamo semplicemente della parte più superficiale della testa, del cervello, quella che figuriamo nella immagine iconografica dell'organo. Quindi, quando noi ci immaginiamo, immaginatevi nella testa un cervello, quello che vedete è esattamente la corteccia. C'è una divisione in lobi, un lobo temporale, un lobo parietale, un lobo cibitale, un lobo temporale, che sottendono alle ossa su cui si poggiano le varie parti, vengono prodotti, ma questi sono fattori, ripeto, più di dettaglio importanti, ma più di dettaglio ai fini di quelle che sono le nostre intenzioni. Dobbiamo sapere che cosa si svolge lì. Lì si parte a elaborare il programma motore. E la zona del cervello, la zona del sistema nevrocentrale è chiamata in causa quando io faccio qualche cosa focalizzando la mia attenzione su quel dettaglio. e quella zona dove partono i segnali volontari che sono determinati a farci fare un'azione che magari normalmente non conosco. Quindi, immaginate di dover imparare un nuovo gesto, pensare di dover muovere correttamente il braccio, descrivere la traiettoria giusta, un po' più in alto, un po' più in basso, una, diciamo, una movimentazione anche, diciamo, spezzettata, segmentata, però altamente cosciente. viene elaborata esattamente dalla corteccia. Se ricordate, e qualcuno di voi magari se le ricorda, la primissima fase dell'apprendimento è quella che viene definita quella dell'impostazione del gesto. E per fare l'impostazione del gesto, che cosa abbiamo bisogno? Di una ripetizione lenta, controllata, di dettaglio, con grandi feedback esterni, quindi c'è il tecnico che ti dà tanti riscontri, oppure sei davanti a uno specchio e ti guardi. Però hai bisogno di fare la cosa con calma per impararla. La struttura deputata a questo tipo di progetto è la corteccia cerebrale. Impariamo, elaboriamo nuovi programmi da lì. Per adesso teniamola lì, appesa così, per capire poi come dobbiamo interpretarla, lavorarci sopra. Passato al secondo livello, c'è la parte del tronco encefalico. La parte del tronco encefalico sono tutte quelle strutture che sono implicate, come vi ho descritto qui in maniera molto sommaria, integrano le informazioni centrari e modulano dei circuiti spinali. Cosa significa? Significa che, molto banalmente, sono quelle strutture dove avvengono i processi di memorizzazione, dove stabilizzi un gesto. Avevamo fatto all'inizio del nostro percorso l'esempio dell'imparare a staccare la frizione. Quando avete fatto la scuola guida, chi di voi l'ha già fatta, sa perfettamente che quando incominci a guidare hai una situazione molto focalizzata e corticalizzata, si dice, nell'apprendimento del gesto, che succede che penso a schiacciare con l'intensità giusta il pedale dell'acceleratore, è contestualmente stacco in maniera ritmica la frizione, perché se no, se stacco troppo veloce si spegne, a un certo punto, questa situazione diventa automatica. Dopo un volume di ripetizione la situazione viene stabilizzata, stabilizzata e non ha più bisogno della nostra totale attenzione, non ha più bisogno che la corteccia celebrare venga chiamata in causa per essere messa in opera. Viene deputata ad altre strutture. Perché? Perché questa, diciamo, stimolazione viene, come dire, capita, imparata e viene riproposta in via automatizzata. Non c'è più bisogno di pensarci, lo facciamo e basta. Scatta il verde, arriva lo stimolo, metto in opera l'azione che devo fare. Tante sono le azioni che noi conduciamo in questa maniera più o meno consapevolmente. Portare il cibo alla bocca, camminare, correre, un sacco di operazioni di base che non è che stiamo a pensare nel momento che le facciamo. Le facciamo e basta. Dobbiamo andare dal punto A al punto B, i piedi partono. Non è che cognitivamente mi metto lì a dire adesso sposto il piede destro, adesso sposto il piede sinistro. Questa cosa non avviene più. Viene un'automatizzazione. Le strutture, chiamate in causa, per, diciamo, questo schema automatico sono quelle del tronco encefalico o subcorticali. Quindi è un secondo livello, diciamo, dove vengono gestite le parti che già conosciamo, che sappiamo già fare. Qui si installano i modelli che poi andiamo a riproporre. Questo è il luogo fisico, l'hard disk fisico, dove noi impariamo le abilità, dove le abilità vengono site fisicamente all'intorno della nostra testa. se riprendiamo le varie fasce, diciamo, di situazione all'interno dell'apprendimento, dove abbiamo parlato di impostazione del gesto, nella seconda fase, se vi ricordate, ci sono due, diciamo, parti dove viene definita destrezza. Destrezza prima grezza e poi fine. La destrezza ha una frequenza di ripetizione più elevata, la fase della destrezza e poi quella della disponibilità variabile, quindi le ultime tre fasi dell'apprendimento dove io sono capace di fare il gesto e soapplicarlo in maniera stabile e deputata proprio a questa parte, la parte del tronco encefalco. Abbiamo poi una terza istanza di, diciamo, di lavoro, nel senso di un terzo livello di stimolazioni, che è quella del midollo spinale. dove ci stanno i riflessi, dove abbiamo, di fatto, la capacità di proteggere soltanto il nostro sistema. La classica condizione riflessa è quando veniamo, per esempio, spinti e mettiamo il piede avanti per non cadere. Quella è un'azione riflessa. Non è un'azione che viene elaborata dalle, diciamo, parti più fini del sistema nervoso centrale, è una ha una risposta più grezza ma più rapida. Quindi possiamo dire che anche, volendo, dire che la corteccia è la più lenta, dove i movimenti sono più lenti, ma sono i più accurati. il tronco incefalico è una via di mezzo dove ci sono le automazioni, il midollo spinale è il più rapido ma il più grezzo nella risposta. Questo può essere anche un altro grado di classificazione. a livello spinale c'è anche quella che viene definita la via finale comune. Non è nient'altro che il luogo fisico attraverso il nostro orachide dove passano tutti gli stimoli e vengono portati al cervello e vengono distribuiti in funzione di quelle che sono il le esigenze. Quindi attraverso la via finale comune noi abbiamo incamerato uno stimolo la via finale comune lo distribuisce in funzione di quelle che sono le esigenze e le strutture deputate lo gestiscono. In funzione di quella che è la stimolazione vanno a chiamare in causa le cose che servono. Per darvi un'ulteriore diciamo esempio e farvi fare ulteriori ragionamenti vi porto l'esempio forse ne avevamo anche già parlato della massima diciamo grado di purtroppo grado fallimentare di gestione di questo sistema scalare a tre livelli che è il morbo di Parkinson. Il morbo di Parkinson se avete presente un soggetto affetto ha una situazione molto compassata molto lenta si muove in maniera molto come dire a scatti e lentissimo durante la sua movimentazione di qualsiasi tipo di gesto questo perché? Perché viene nemmeno questo sistema tutte le condizioni sono gestite a livello corticale questa situazione provoca un sovraccarico di stimoli a carico della corteccia che aumenta i tempi di latenza oltre al dispendio energetico di gestione che permettono una riproposizione dei vari gesti in maniera pulita efficiente per quanto riguarda la parte del tronco encefalco quindi la parte del modeling e quindi la parte dove di fatto veniamo a costruire quelle che sono le nostre abilità e le stocchiamo all'interno del nostro sistema nervoso centrale e per farvi capire anche qual è la complessità io ve l'ho messa giù abbastanza schematica e semplice ma per farvi capire quanto siamo complessi vi posso dire che anche a titolo magari di curiosità che per l'apprendimento anche l'aria emotiva ha un suo un suo coinvolgimento per intendersi nel momento in cui noi stiamo facendo stiamo cercando di imparare qualche cosa è stato dimostrato che c'è attività elettrica anche in quelle che sono le aree limbiche nello specifico nell'amigdala non è non è di dettaglio ricordarsi no il processo prevede questo tipo di passaggio noi siamo di fatto una somma tra risposte diciamo di stimoli elettrici e chimici quindi noi ci muoviamo perché abbiamo delle stimolazioni elettriche delle stimolazioni di livello biochimico quando tu fai una semplice operazione in particolare anche in età giovanile magari sul punto di vista della dell'apprendimento quando qualcuno vuole imparare un gesto avere un'abilità il processo in cui viene implicato appunto quest'area emotiva dà una un riscontro in termini di reazioni proprio non cognitive inteso se il gesto viene fatto bene io sono contento mi sento pagato se il gesto viene fatto malamente mi sento frustrato è stato dimostrato che questo processo inibisce la registrazione o il favorisce la registrazione della skills che si sta proponendo quindi cosa significa se io sono contento il corpo invia una chiama in causa diciamo un altro apparato che sono poi rifatto il talamo e l'ipotalamo che dice ok questo movimento è fatto bene lo teniamo nei nostri modelli se io mi sento frustrato cosa succede non parte questo progetto dice ok questa azione non è fatta bene non la registriamo all'interno dei nostri modelli ora immaginate questa cosa avviene sia a livello personale è auto indotto dal sistema quindi il ragazzo in autonomia il soggetto il piccolo atleta lo fa per fatti suoi però immaginate anche che cosa può scaturire il feedback dell'allenatore l'allenatore può dare dei riscontri e rinforzare o inibire la capacità di apprendimento e bisogna fare attenzione quando rinforzare e quando inibire perché se io rinforzo dando feedback positivi a prescindere si vanno a registrare anche dei modelli sbagliati ma se io penalizzo e tra virgolette sgrido a prescindere inibisco la capacità di apprendimento questo per darvi un'idea della complessità del sistema però diciamo anche più a livello di curiosità se vogliamo però l'idea è avere chiaro che ci sono tre livelli che vengono chiamati in causa in funzione di di quelle che sono le le esigenze una più tardiva più grezza una automatizzata una più lenta e più fine fondamentalmente ora vi faccio un altro vi chiedo un'altra cosa vi faccio ragionare anche su un'altra cosa probabilmente magari qualcuno di voi l'ha viste negli ultimi nell'ultimo periodo negli ultimi diciamo anni sono nate molte molte lucine colorate che probabilmente al passaggio non si spengono e vanno a diciamo insomma esaltare in teoria la capacità del sistema nervoso centrale fondamentalmente a fronte di quello che ci siamo detti quando viene detto che quel tipo di stimolazione stimola i riflessi secondo voi è corretto o no cioè non so se avete presente no se se le se le se non sapete di cosa sto parlando googleate rapidamente in questo frangente reaxing lights c'è un altro prodotto che anche sta uscendo adesso negli ultimi periodi che comunque vi dà l'idea di queste lucine che si accendono si spengono normalmente l'atleta va a toccare i vari pad e la lucina si spende e vengono a volte diciamo spese come dire vai a migliorare la capacità dei tuoi riflessi a fronte di quello che ci siamo detto anche per dimostrarmi se avete capito o meno secondo voi è corretto o meno va veramente ad allenare i riflessi quel tipo di allenamento secondo voi che mi dite qualcuno che si sbilanci quel tipo di allenamento e allenamento degli riflessi io credo sia più allenamento della coordinazione perché i riflessi non si possono cioè non si possono allenare cioè dal momento in cui tu l'alleni diventa coordinazione esatto anche Sara giustamente dice di no non è secondo me errato perché esatto esatto bravi avete capito perfetto mi dimostrate che avete capito andiamo a lavorare su dei livelli superiori la parte di riflesso è tardiva quindi anche quando i commentatori dicono del portiere che ha avuto un gran riflesso è logico è logico che non è loro lo dicono in maniera chiaramente profana però tecnicamente quello non è un riflesso quella è agilità quella è brillantezza quella è reazione tempo di reazione quello sì quello senz'altro allora siamo in un altro regime siamo in un regime di automatizzazione sono automatizzato e allora riesco ad avere delle risposte che sono più brillanti ma non sono riflessi corretto piccolo soltanto inciso per capire se avete capito il tema se avete capito il discorso ma mi sembra di sì nel caso ci fossero dei dubbi fermatevi e domandate ragazzi bene capito che cosa succede in termini di gestione degli stimoli dobbiamo capire un ultimo frangente questi stimoli come vanno in giro per il nostro corpo attraverso altre strutture deputate che sono i neuroni vengono sono queste strutture che conducono stimoli fanno sì che lo stimolo passi sono strutture sinaptiche quindi abbiamo sappiamo che hanno proprio sposano al cento per cento l'idea elettrico biochimico e per darvi un'idea molto da campo ci avviciniamo sempre di più alla fase dell'allenamento sono soggettate esattamente a quella che è una delle regole di base del corpo umano gli inglesi la chiamano use it or lose it l'adagio semplicemente significa regressione da non uso se non li fai funzionare peggiorano nella loro qualità come faccio a allora farli funzionare e soprattutto all'interno della nostra vita all'interno della nostra realtà li stimoliamo siamo di fronte a una diciamo un ambiente che favorisce il mantenimento e in particolare ok se non li uso li perdo ma se li utilizzo ho dei riscontri positivi in merito vediamo un po' che cosa ci dice la scienza quindi capito che se non li non li faccio andare sono assoggettati a tutte quelle situazioni che sono dettate dalla regressione da non uso purtroppo rispetto a quelli che sono i diciamo la storia dell'uomo siamo assoggettati a una riduzione dei compiti mentali perché perché con l'avvento della tecnologia con il con il anche con la civilizzazione no è normale che i nostri antenati avevano degli stimoli ambientali determinati dalla sopravvivenza cacciare sopravvivere ai predatori e via dicendo noi tutte queste cose le abbiamo bypassate non ce le abbiamo più il nostro corpo non è più assoggettato a questi stimoli abbiamo quindi una riduzione dei compiti mentali a fronte di una maggiorazione di attenzione selettiva e attenzione con attenzione selettiva non significa che siamo più bravi a concentrarci su un unico aspetto no significa che siamo portati a saltare rapidamente da uno stimolo ad un altro da un passaggio diciamo di diciamo di richiesta neuronale anche molto distante immaginiamo semplicemente all'utilizzo dello smartphone per dire passiamo da dei gradi attentivi diversi ci balziamo da una parte all'altra senza mai stabilizzare lavorare con diciamo con più costanza quello che rispetto a quelle che sono le 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 nostre diciamo origini della specie umana ora questo non significa che sia bene e un male è una presa di coscienza non è che dico che dobbiamo andare a vivere nelle foreste però dobbiamo tenere in considerazione che le stimolazioni si stanno abbassando se le stimolazioni si stanno abbassando regressione da non uso inoltre questo ve lo dico perché lo dice le pubblicazioni scientifiche il movimento è stato chiaramente dimostrato come sia un potenziatore cognitivo però di contro sappiamo anche che ci muoviamo sempre di meno e quindi cosa succede questo è tutto uno scalare negativo su quella che la piattaforma che porta in giro gli stimoli quindi seppur la piattaforma è performante a tre livelli ha un sacco di strutture deputate ha un'interazione molto fine riesce a collocare bene ogni stimolazione se poi io quello che mi porta in realtà in giro la stimolazione non funziona bene allora tutto quanto va ad abbassare in termini di performance di prestazione di prestazione motori al di fuori di prestazione sportiva ad abbassare il sistema ad appianarlo verso il basso e qui passiamo al concetto di neuroplasticità vado solo per un attimo una finestra che fa caldo arrivo subito eccoci quindi abbiamo capito che i neuroni sono assoggettati a regressione da non uso però funzioniamo anche al contrario la neuroplasticità è la capacità del sistema nervoso di andare incontro a modificazioni strutturali come faccio cioè molto semplicemente attenzione l'idea è questa una stimolazione reiterata aiuta ad avere un più una più fitta rete di neuroni un passaggio quindi di informazioni più efficiente più rapido più fluido rispetto a una rete meno stimolata questa è un'immagine che ho preso da uno studio scientifico che proprio va come vedete come è stata descritta qua sotto andava ad indagare proprio la la rete stimolata da una non stimolata ovviamente il protocollo prevedeva un'analisi preliminare un protocollo di stimolazioni e un'analisi a posteriori il sistema del gruppo di controllo risulta essere molto meno fitto rispetto a quello del sistema allenato quindi come diciamo siamo soggettati all'ipertrofia muscolare quindi all'ingrandimento e alla all'ampliamento delle sezioni trasverse dei muscoli nella stessa maniera siamo capaci di fare in termini di di aumento di reti e in realtà non è che aumenta il volume di dei neuroni di base il numero rimane quello aumenta la capacità della struttura stessa di portare in giro i segnali con più diciamo ramificazioni quindi il volume resta uguale però le ramificazioni sono più approfondite e questo favorisce il passaggio di segnale diventiamo più bravi a condurre stimoli vengono innescati dalle esperienze e questo ne abbiamo già parlato in precedenza e poi questo è una cosa che ormai capendo come funziona a sommi capi il cervello la memoria a breve termine permette la memorizzazione a lungo termine cioè se l'esperienza va ad innescare questo processo di una rete più fitta quindi un passaggio più fluido di informazioni questa stimolazione ci permette di fare delle avere delle stimolazioni a breve termine quindi avere una capacità di apprendere più cose essere più come dire avere di fatto una piattaforma più più pronta più performante nel inserire e nel fruire i dati avendo capito che poi questi dati vengono dislocati in funzione delle automatizzazioni che noi creiamo sulle variabilità ci sta a dire che la memoria a breve termine poi reiterata ci permette di memorizzare a lungo termine un passaggio da livello corticalizzato a un livello subcorticale quindi anche le strutture se stimolate in maniera adeguata permettono un passaggio di informazione più rapido questo ci deve dare anche grande consapevolezza sul fatto che sia si parla comunque di neuroni sia in fase di afferenti che efferenti sia quando io devo imparare sia quando devo riprodurre tanto più la rete è fitta tanto più io sarò bravo e quindi iniziamo ad addentrarci rispetto a quello che è il piano d'allenamento queste sono è una cosa di cui noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli in maniera ancora più di dettaglio se parliamo di sport di squadra perché perché quello che ci interessa in uno sport di squadra è l'agilità e che cos'è l'agilità? è la combinazione tra velocità e coordinazione velocità è la capacità del sistema di estrinsecare una contrazione in maniera più rapida possibile ma non è detto che se io corro veloce poi sono anche capace di fermarmi cambiare direzione cambiare verso correre su linee circolari tutte situazioni che vengono richieste all'interno di un campo sportivo per fare questo abbiamo bisogno di coordinazione dobbiamo essere capaci di discriminare le distanze dobbiamo sapere quali sono dove sono le posizioni dei segmenti nel nostro corpo ed è dalla somma di questi due progetti qui che noi arriviamo a quello che ci interessa però dobbiamo inserire stimoli precisi come qualcuno di voi in fase preliminare di questa chiacchierata aveva già espresso se siamo coordinativamente più bravi abbiamo un'economicità e un'ottimizzazione della performance questo perché immaginiamo di di fare alcuni gesti come può essere condurre un pallone da calcio all'interno del campo tanto più io sono bravo tecnicamente a portare il pallone e e mi costa meno diciamo attenzione energia quindi le strutture sempre quelle sono più automatizzate in quel tipo di gesto tanto più la mia energia potrà essere applicata per fare altre cose nel caso specifico correre portiamo un esempio per per darvi diciamo magari anche altri tagli se io mi metto a palleggiare una palla da basket che non sono così diciamo bravo a farlo e siamo io e giocatore professionista Lebron James non lo so cosa succede se fino a quando il compito è semplice più o meno le prestazioni sono simili ma tanto più il compito si innalza tanto più la capacità del professionista viene fuori perché perché lui nella gestione tecnica coordinativa del problema è molto più efficiente di me inteso come se dobbiamo fare a gara su un campo di basket da chi corre corre palleggiando da da un da un margine all'altro del campo probabilmente chi ha la tecnica migliore arriva prima e questa cosa avviene perché perché il costo energetico si abbassa non è detto che magari se partiamo appaiati senza pallone facciamo uno sprint quindi di pura velocità non arriviamo magari insieme però l'isolamento coordinativo più stabilizzato in un in un soggetto capace più fa sì che il prodotto che ne ne sottende sia migliore quindi se lui deve attraversare il campo da basket palleggiando è molto più veloce di me nel farlo anche se magari sullo sprint secco sulla velocità secca siamo appaiati o magari che ne so potrei anche essere più veloce io questo è un dato che bisogna tenere in considerazione quindi l'economicità e l'ottimizzazione delle performance passano dalla capacità coordinativa che sottende a tutte le strutture che ci siamo detti alla neuroplasticità e via dicendo quindi tanto più siamo bravi tanto più siamo performanti almeno in quel tipo di frangente ed economici e ottimizziamo quelle che sono le nostre possibilità e in particolare esattamente anche calzante all'esempio che vi ho appena portato sul passaggio del campo da basket noi siamo assoggettati almeno a un dual task dobbiamo per lo sport essere bravi a decidere con tempi di latenza bene le capacità condizionali hanno intensità danno intensità alla performance quindi cosa significa nel momento in cui io sto facendo l'operazione nel momento in cui io sto palleggiando dovrò essere capace di fare più cose insieme è logico che se sono bravissimo a palleggiare però sono troppo lento sarò facilmente fermabile mettiamola così e quindi anche l'intensità condizionale ha il suo valore ma se io sono capace soltanto di focalizzarmi su quello che sto facendo quindi palleggiare basta io sono totalmente inefficiente allo sport che devo condurre perché mentre faccio quell'azione lì dovrò essere bravo a guardare che cosa mi succede intorno quali sono i movimenti dei miei compagni quali sono i movimenti dei miei avversari capire quanto tempo ho sulla sirena per organizzare l'azione capire il momento magari dover guardare il punteggio perché nei momenti importanti magari ovviamente quello è quello che determina la mia scelta tante combinazioni insieme che io devo più sono in grado di controllare ad ampio spettro tanto più sono performante per fare questo c'è bisogno di un allenamento coordinativo e un allenamento cognitivo non si scappa dobbiamo essere capaci di fare questo tipo di di processo e ora che ne abbiamo capito le strutture implicate il diciamo l'importanza sul campo in maniera però come dire assolutamente cosciente cerchiamo di capire come lavorarci come dovremmo lavorarci per ottimizzare il tutto beh questi sono cose che ci siamo già largamente dette ci sono dei fattori influenti che sono sistema nervoso centrale ne abbiamo parlato ad ampi ampissime parole organi visivi gli organi visivi perché perché comunque è da lì che apprendono è da lì che incomincia il tutto è da lì che inizio a costruire il modello quindi se io non alleno la capacità di leggere di guardare allora probabilmente fallisce tutto il progetto le capacità condizionali perché perché come ci siamo detti noi tendiamo all'agilità non alla coordinazione semplice è logico che ne abbiamo bisogno anche della coordinazione semplice vedremo che abbiamo bisogno di più istanze coordinative perché dovremo andare a stimolare le varie strutture però anche la capacità condizionale ha la sua influenza l'intensità mettiamola così con cui produciamo questi stimoli ci dà dei riscontri abbiamo visto anche che è il movimento che è un buster per quello che è l'apprendimento e la neuroplasticità e la situazione ambientale è determinante non solo come ci siamo elencati precedentemente inteso come stimoli di vita quotidiana ma anche proprio il sistema ambientale in cui noi andiamo a rapportarci inteso come se tu sei su un campo da calcio e il il terreno è bagnato perché piove avrai un certo tipo di stimolazione se sei su un terreno gelato hai un altro tipo di stimolazione se c'è la nebbia avrai un altro tipo di stimolazione che influisce sulla tua capacità coordinativa e cognitiva se parliamo di un campo un campo intendo dire come una palestra indoor il come dire la l'ambiente quindi la struttura fisica della palestra stessa determina quelli che sono i riferimenti immaginate una squadra che va a giocare che si allena in una palestra molto piccola senza gradoni per dire senza spalti che va a giocare in trasferta in un palazzetto molto grande con gli spalti intorno cosa cambia? il campo è sempre quello sì però i riferimenti cambiano cambia la visione in profondità e abbiamo visto che gli organi visivi hanno una loro peculiarità devono essere capaci di adattarsi di essere in grado di modellarsi a quello che è la richiesta colori diversi danno profondità diverse percezioni di profondità diverse questo è il motivo per cui giocare in casa e fuori casa per certi versi ovviamente parlando di bassi livelli o nel periodo pandemico non è determinato soltanto dalla presenza del pubblico è determinato proprio dal campo da quelli che sono le differenze del campo perché? perché l'occhio la capacità di coordinarsi di rapportarsi in maniera proficua nell'ambiente è da allenare e da stimolare e qui capiamo che ci sono tre tipi di coordinazione abbiamo una coordinazione di tipo generale la coordinazione di tipo generale e l'implementazione anche molto lontana dal modello di prestazione sono tutte quelle esperienze che aiutano il il nostro giovane atleta ad avere una cassetta degli attrezzi più ricca possibile di strumenti da poter utilizzare anche molto lontani da quello che è il modello di performance abbiamo parliamo poi di una stimolazione di tipo diretto diretto inteso come andiamo a colpire in maniera preferenziale alcune strutture alcuni diciamo distretti corporei che sono a più alto impatto all'interno della performance quindi facciamo finta di parlare di sport di spostamento andiamo a lavorare sul sull'agility ladder sulla scaletta per aumentare l'agilità di spostamento ma quello non è sport specifico la scaletta la fai se giochi a pallavolo se giochi a basket se giochi a calcio se giochi a rugby ha un altro tipo di fine e poi andiamo su quella che la coordinazione specifica per portare un altro diciamo che è assolutamente più centrale rispetto a quella dello sport diciamo deputato allenato e è quella che diciamo lo caratterizza di più quindi se torniamo sull'esempio del passaggio che ne so del zigzag tra i cinesini se lo faccio su un campo da calcio facendolo conducendo col pallone abbiamo una stimolazione coordinativa però specifica per quel dato sport se lo faccio palleggiando col pallone da basket ho una stimolazione specifica per quell'altro sport ora vi faccio una domanda secondo voi quali delle tre dovrebbero essere più focale per quello che è la parte del tecnico e parliamo in generale non parliamo per fasce di età parliamo in linea generale che cosa dovremmo andare a privilegiare se dobbiamo andare a privilegiare qualche cosa di queste di queste tre tipi di stimolazioni secondo voi ragionateci un attimino provate a fare un ragionamento perché nel momento in cui magari ci pensate un po' di più costa un po' più fatica però vi rimane un pochino più anche l'idea di base secondo voi queste tre stimolazioni sono da ripartire in maniera preferenziale oppure equilibrata oppure qualcuna può essere esclusa qual è il vostro il vostro pensiero qualcuno che si sbilacchi dai che ne pensate darei più spazio alla generale ok è una posizione altri io credo siano tutte importanti per poi lavorare nella specifica e nella diretta bene ci sta vediamo un pochino qua sarebbero da ripartire in base all'effettiva necessità che hanno i nostri atleti e anche in base al periodo rispetto alla performance ne parliamo sì senz'altro abbiamo però in realtà vedremo che questo ci sta Claudia giusto cioè ci sono dei momenti in cui diciamo che quello che tu dici ha una valenza immagino che nella tua testa sia riguardante magari l'età giovanili dove siamo un po' più in fase sensibile e più recettiva però vi cerco di dare un taglio per poi tirare le file su tutto quello che ci siamo detti ecco per non far sì che conoscere la struttura e come funzioniamo sia soltanto fino a se stesso ecco altri c'è qualcun altro che vuole condividere il pensiero dipende dalle spese dei giocatori in base a quello che si prevede in un tipo di lavoro ok allora tante tante idee ed è sinceramente proprio quello che succede nel senso che l'allenamento alla coordinazione o l'allenamento cognitivo e e come vedete molto spaccato cioè come si va molto su convinzioni su quelle che sono poi le proprie le proprie idee e anche quelle che sono le proprie esperienze no in realtà però se conosciamo come funzioniamo possiamo motivare perché in molti casi se io chiedessi il perché di alcune vostre posizioni bisognerebbe capire se poi sappiamo giustificarlo vi dico che cosa sostiene e giustamente che cosa fa il quella quella che viene definita il position statement cioè le pubblicazioni scientifiche che cosa ci dico ci dicono che queste tre stimolazioni sono da ripartire al 33 33 33 e perché sono da ripartire al 33 33 33 perché non accontentiamoci di questa percentuale secca senza una spiegazione iniziamo a costruire come vi dicevo già anche l'altra settimana le settimane precedenti non ricordo un'idea ad ampio spett ragioniamo su come funzioniamo e poi decidiamo di applicare una cosa piuttosto di un'altra in maniera consapevole se ci ragioniamo l'attività di tipo generale è la più distante da quella che è il nostro sport che cosa significa? Significa che quello che dovrò imparare probabilmente mi metterà gravemente in crisi perché sono meno abituato a far quel tipo di schema qual è la stimolazione che che ne sottende? Sottende che il mio sistema cognitivo quindi la corteccia lavori in maniera preferenziale venga stimolato in maniera preferenziale vado a lavorare su quella parte lì vado a lavorare in particolare sull'apprendimento quindi stimolo le mie i miei recettori di stali devo imparare questo è il motivo per cui bisognerebbe mettere la parte generale la parte diretta è quella che si avvicina di più e va a stimolare con poi vabbè la parte diciamo abbiamo ci siamo già detti anche vabbè un altro aspetto precedente comunque la parte diretta va a stimolare il tronco encefalico la parte degli automatismi perché perché quando noi abbiamo un compito da risolvere e non abbiamo una risposta di tipo perfettamente aderente intendo dire se il mio corpo dicendo partendo dal presupposto che lavoriamo su modelli se il mio corpo non ha la risposta perfettamente aderente alla richiesta che stiamo andando cercando va a cercare su un modello simile non è che non dà una risposta dà una risposta vicino a un modello simile questo lo riscontri quando per esempio porti a pattinare uno sciatore per dirne una perché perché sei abituato allo stimolo sono due sport diversi però la sensazione dello scivolamento è stimolata nei due nelle due macro aree e parti da una base un pochino più elevata quando che ne so chi fa skateboard ha delle skills delle abilità anche per il windsurf il surf questa cosa qua per dire una quindi nella stimolazione diretta vado a stabilizzare incrementare e stimolare tutte le richieste stabilizzate però con quel gap da dover coprire dell'adattamento perché non è che faccio la scaletta quando corro sul campo perché non è che se mi metto lì a lavorare sulle andature dei piedi poi allora è la stessa mobilizzazione che faccio quando faccio un arresto no però il sistema viene stimolato all'automatizzazione e diciamo quella parte di esercitazione che andrà a focalizzarsi sotto la parte diciamo corticale subcorticale la parte specifica viene sviluppata perché perché lo sport resta comunque a livello di performance tecnica specializzata quindi cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo costruito nelle aree superiori per portarcelo poi in quella che è la nostra componente sport specifica quindi in generale ci serve per andare a stimolare le fasi dell'apprendimento diretta ci serve per allenare il sistema ad adattarsi allenare a fruire modelli simili a quelli che già sappiamo fare però con delle micro variazioni in cui io mi devo adattare e la parte specifica è perché è quella più vicina al modello di prestazione che devo andare a conseguire tutte le tre le stimolazioni vanno a calcare su quella che è la neuroplasticità su quella che è l'incremento della base di rete di interconnessione dei dati ok questo è il motivo per cui queste tre situazioni devono essere ricalcate non è che perché giochiamo a calcio non facciamo sensibilizzazione con le mani per dire e se gioco a pallavolo non faccio sensibilizzazione con i piedi se non faccio quel tipo di stimolizzazione mi perdo una stimolazione del sistema nervoso centrale mi perdo un potenziale anello della mia catena che mi può favorire nella gestione e nell'apprendimento e nella migliorazione nel miglioramento scusatemi delle delle performance abbiamo parlato ormai abbastanza largamente tiriamo un po' le somme e la coordinazione quindi deve essere più ampia possibile perché più avrò un bagaglio di esperienze ricco e più potrò fruirne più avrò un bagaglio di esperienze ampio più avrò possibilità di costruirmi modelli più questi modelli potranno essere riproposti e più io sarò abile a gestirmi fluido qualitativamente positivo durante le varie azioni e poi logicamente si va a focalizzare sulle varie capacità coordinative io ne ho elencate un po' ma l'elenco è sconfinato ed in particolare puoi andarsi a focalizzare magari ponendo l'accento più su quelle che sono le esigenze della performance specifica se faccio il pattinatore magari o gioco a O che mi focalizzo un pochino più sulla condizione dell'equilibrio se gioco a pallavolo probabilmente vado un pochino più sulla parte di discriminazione cinestesica oppure sulla ritimizzazione per dirne uno se gioco a basket probabilmente ho quello manuale e via dicendo quindi come l'alleniamo abbiamo visto intanto la parzializziamo e cerchiamo di andare a cercare degli stimoli per tutte le condizioni e poi seguiamo esattamente la struttura che utilizza il nostro cervello che parte da una parte più corticalizzata più lenta più precisa per andare sempre più verso quella che è la capacità di disponibilità variabile lasciamo perdere la struttura midollare che abbiamo capito che non c'entra con quelle non possiamo comandarla sotto il punto di vista della prestazione e quindi passiamo da delle condizioni dal semplice al complesso dallo statico al dinamico e via dicendo però lo facciamo con una consapevolezza diversa lo facciamo sapendo che cosa stiamo andando a cercare e questa è la differenza di sapere come funziona la struttura al cercare uno stimolo randomizzato che dà delle risposte randomizzate di necessità virtù e qui poi siamo sulla parte sport specifica che ci ci dà due grandi parametri che deve essere il più ampia possibile ma è la precisione più precisa possibile qui si parla di qualità e dal primo minuto di questa nostra chiacchierata che parliamo di questo dettaglio l'avete tirato fuori voi no? è logico che tanto più avrò un bagaglio ampio tanto più avrò un bagaglio performante tanto più avrò una disponibilità variabile all'interno del campo di gioco per poterne fruire durante le fasi di gara alla peggio sono più economico alla peggio sono più capace di gestire le mie energie quando la inseriamo durante la fase di allenamento dopo il warm up quindi dopo aver fatto la parte di riscaldamento generale per tempi di esposizione abbastanza brevi con dei recuperi abbastanza lunghi dovrebbe essere sempre presente perché la inseriamo qui e non da altre parti perché il sistema nervoso deve essere fresco ha bisogno di energia questa parte qui ha bisogno di qualità e per la qualità io devo essere fresco anche sotto il profilo metabolico meccanico condizionale in generale facciamo più fatica a studiare se ho corso 20 km a piedi invece che se mi sono alzato la mattina fresco dopo una buona notte di riposo e mi metto a focalizzarmi sullo studio stesso discorso il sistema nervoso è più è più fresco ed è più recettivo quindi applicarla appena passata la fase di warm up se parliamo invece nella programmazione generale anche qui sempre presente quindi una stimolazione costante sempre presente ma più concentrata all'inizio perché cerchiamo appunto di costruire dei modelli cerchiamo di costruire un certo tipo di plasticità neurale che è esattamente quello che facciamo con i muscoli cerchiamo di avere una rete più fitta che ci permetta di avere una miglior fruizione durante tutto il resto della stagione che però va comunque sempre stimolata e richiamata perché siamo soggettati al use it or lose it deplezione da non uso cambiare circa il 15% degli stimoli per evitare ossifazione questo cosa cosa che taglio ci deve dare ci deve dire cambiamo il 15% perché perché più cambiamo e più vado a stimolare la struttura cognitivo corteccia perché cosa significa se io rimango sempre fisso lì sugli stessi stimoli immaginate di fare sempre le stesse andature in scaletta le stesse movimentazioni tra i cinesini cosa succede gli atleti diventano specializzati su quella specifica andatura non è che imparano ad allenare la struttura loro imparano quello stimolo lì e allora cosa succede se tu cambi una virgola di quell'andatura fracchi il sistema e la risposta non è ad ampio spettro ad ampio regimo e stimolo specifica quindi un 15% va sempre variato il resto lo manteniamo perché abbiamo bisogno di automatizzare e abbiamo bisogno di creare modelli quindi un certo tipo di ripetitività ci vuole perché dobbiamo dare il tempo ai ragazzi di apprendere passare dalla fase corticale a quella subcorticale però appena vediamo che l'esercitazione non è più stimolante via proporne un'altra basta questo è quello che mi viene da da dire a riguardo di questo tipo di tema poi è un tema amplissimo l'abbiamo trattato a sommi capi per cercare di avere almeno un po' di consapevolezza ecco però diciamo che questo sfero che possa esservi più come uno stimolo di riflessione per quello che è sia la vostra il vostro allenamento personale se siete ancora degli atleti sia per quello che sarà poi la fruizione delle persone che si affidano a voi in maniera soprattutto di consapevolezza avere un motivo per fare le cose sul tema ci sono delle domande avete qualcosa di non chiaro c'è qualcosa che c'è bisogno di ripetere di spiegare qualcosa che anche che non siete in accordo non è non è mica un reato professore mi sono perso il secondo punto di due slide fa potrebbe solo rimettere il secondo punto di due slide fa aspetta che te lo tiro dietro dopo l'allenamento per livelli aspetta allora qui no fermami tu questa questa ok perfetto poi ragazzi le slide ve le lascio slide registrazione ve le tenete va bene grazie mille niente ragazzi ragionate ad ampio spetto allenate consapevoli questo è un punto importante allenare consapevoli e per allenare consapevoli dobbiamo sapere come funzioniamo ripeto a sommi capi non è che abbiamo fatto una una parte di neurofisiologia anzi siamo stati molto 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 sullo schematico e sul vago però per quello che ci necessita per per quelle che sono le cose del campo perché poi noi siamo gente di campo dobbiamo dobbiamo conoscerle dobbiamo sapere come intervenire come applicare certi aspetti bene se non ci sono altre questioni aperte o magari se ne saltano fuori comunque abbiamo ancora un attimo di tempo per fare le fronte parlerei rapidamente di un fondamentale che nella pallavolo sport specifico ha di certo amplissime amplissime implicazioni di tipo coordinativo e parliamo del muro intanto definiamolo con muro si definisce la parte del corpo che uno o più giocatori di prima linea possono innalzare al di sopra della rete al fine di arrestare il corpo avversario cosa significa semplicemente che io salto per contrastare l'attacco degli altri salto esclusivamente dalla prima linea perché come sappiamo da regolamento non posso saltare staccando all'interno della linea dei tre metri c'è già un'idea di uno o più giocatori quindi cosa significa significa che io devo sapere e essere in grado di valutare anche il movimento di qualcun altro non ci sono solo io posso esserci solo io ma posso avere anche un compagno o due compagni anche ad alto livello si utilizza anche il muro a tre che devono avere un movimento di tipo sincrono organizzato strutturato per far sì che l'azione venga condotta in maniera pulita precisa qualitativamente corretta e vediamo un po' di aspetti posizione di partenza iniziale poi come al solito anche il video della professoressa Gobbo ve lo lascio in descrizione sul moodle che così ce l'avete dove avete anche tutte le cose che dice che si sentono un po' meglio posizione di partenza le mani sono al di sopra della linea del capo gomiti semiflessi a una distanza diciamo intercorsa da quella che è quella della lunghezza dell'omero più o meno leggermente sopra l'angolo di 90 gradi piedi alla larghezza delle spalle scusatemi alla larghezza delle spalle gambe leggermente in precarico pronti a staccare quindi la posizione di partenza appunto è determinata da questo tipo di gestione il centro quindi il core viene attivato in maniera importante per essere stabile e solido all'interno delle condizioni di spostamento e poi vedremo anche nella fase di volo e poi abbiamo da mettere in piedi tutte quelle che sono delle tecniche di spostamento perché io questo fondamentale devo attuarlo in diversi frangenti quello che vedete è un passo accostato dove il primo piede si sposta in direzione della direzione appunto in cui io voglio dirigermi ha un certo tipo di vantaggio e presenta anche altri tipi di svantaggi quello che vedete ora invece è un passo incrociato in realtà è un passo misto perché accostato e incrociato insieme però ha anche in questo caso delle peculiarità e delle situazioni che possono essere di interesse all'interno dello sviluppo dell'azione stessa all'intorno del perimetro di gioco e ha di certo un'incidenza nella scelta della tecnica in funzione dell'azione che io devo fronteggiare scegliere una tecnica o un'altra tecnica è determinato da quello che succede quindi cosa significa significa che io devo essere in grado di valutare che cosa sta capitando e applicare una cosa piuttosto che un'altra che cosa serve per fare questo progetto allenamento cognitivo allenamento coordinativo devo essere capaci di dual tasking guardare e organizzarmi cosa sta succedendo dall'altra parte che cosa posso fare io al meglio per avere la più alta probabilità di fronteggiare in maniera positiva se adesso poi tanto parliamo dopo nel dettaglio sulle traslocazioni guardiamo prima la parte della fase di volo la posizione di partenza ce la siamo già vista molto semplicemente l'idea è quella di passare prima possibile oltre il filone superiore del nastro proponendo un piano di rimbalzo da un grado di incidenza favorevole per indirizzare il pallone che eventualmente andrà a toccarmi sulle mani nel campo avversario questo ci deve dare anche come idea di base la diciamo un'analisi un pochino più ampia su quella che è la posizione di partenza immaginate se io partissi tutto schiacciato contro il filone della rete per poter inserire le mani oltre il filone della rete dovrei prima andare verso l'alto e poi portare le braccia oltre la linea superiore del nastro distanziandomi leggermente mi permette di inserire immediatamente le mani nel campo avversario parliamo di un'azione che si esaurisce in decimi di secondo la precisione assoluta è determinante per la buona riuscita quindi l'avete detto voi all'inizio di questa call qualità di movimento efficienza pulizia questo è un assolutamente un protocollo di tipo estremamente coordinativo aspetta vediamo un po' se c'era delle altre cose ma mi sembra di aver visto tutto fase di volo fase di volo come si diceva carico nelle gambe cerco di spingere oltre il filone della rete portando immediatamente le mani oltre il nastro primo obiettivo l'invadenza primo obiettivo proporre un piano di rimbalzo adeguato per eventualmente incocciare la palla avversaria e rimandagliela nel loro campo vi do un parametro normalmente una squadra che mura molto forte quindi è molto efficiente su questo fondamentale ad alto livello mura tre quattro muri a set ed è un dato per il 5% delle squadre mondiali un muro medio prende da uno a due punti diretti col fondamentale a set in una in una set quindi diciamo in un unico game insomma diciamo un unico set di partita ci sono circa dai 35 ai 50 attacchi quindi capite bene che se siamo forti su 50 attacchi su 35 attacchi a prendere 3 4 muri immaginate qual è l'incidenza della difficoltà del fondamentale e di come sia necessario utilizzarlo anche per altri scopi al di fuori di quello di prendere una nuova da punto perché che senso ha saltare 50 volte per prendere 3 punti 2 punti 1 punto ha senso perché ci sono degli altri obiettivi sul fondamentale e gli obiettivi possono essere smorzare la velocità dell'attaccante avversario quindi vado per toccare e ridurre la velocità del pallone impattato sulle mani oppure indurre i giocatori avversari a tirare nella direzione desiderata verso il mio campo capite che qui entra in gioco l'idea di tattica che avevamo già accennato precedentemente nelle scorse settimane quando parlavamo di match analysis facciamo una cosa per mettere in opera qualcos'altro posizioni di partenza ne abbiamo l'abbiamo già vista e analizzata le gambe sono precariche il gomito è flesso le mani sono ben divaricate anche perché più sono divaricate più la possibilità di un rimbalzo pulito sarà positiva quindi cercare di proporre un piano costante permette una rifrazione dell'impatto del pallone più precisa il peso è disposto sull'avampiede perché quella è la parte più reattiva dove sfruttiamo meglio le capacità tendine di elevazione di salto e il core è stabile contratto perché aiuta la trasduzione dalla spinta degli arti inferiori fino alla fase di volo e l'inserimento delle mani oltre il filone della rete e poi c'è la fase di volo le mani sono divaricate al massimo grado per quelli che sono gli obiettivi vi faccio ragionare soltanto che l'orientamento del piano di rimbalzo è dettato dalla zona in cui viene portato il muro stesso se muriamo dal nostro posto 4 tendenzialmente si tende a mettere la mano sinistra orientata verso il campo per evitare che gli impatti schizzino da altre parti altresì dall'altra parte quindi da posto 2 tendo a mettere il piano di rimbalzo con la mano esterna rivolta verso il campo le mani sono immediatamente oltre il nastro il piano di rimbalzo è orientato verso il campo le braccia ferme le braccia non dovrebbero muoversi è un fondamentale che si esaurisce in pochi decimi di secondo quindi ogni perturbazione che io applico meno preciso sono più il rimbalzo può essere randorizzato il core è contratto perché durante la fase di volo se arriva un impatto nelle mie mani è l'unico punto di ancoraggio che ho per non farmi sbilanciare transizione abbiamo visto il passo accostato che è quello che determina uno spazio di movimento più piccolo quello che dovrò selezionare per entrare in disponibilità di ingaggio contro l'attacco avversario in distanze brevi abbiamo visto un passo incrociato dove il muratore incrocia i piedi e scorre non più su un piano parallelo ma perpendicolare nella nella nello spostamento per arrivare nella zona di ingaggio e poi c'è una parte misto tra accostato e incrociato queste tecniche come pro e contro sono da rendere disponibili perché questa qui è la più lenta ma è la più precisa perché perché le mani scorrono esattamente sulla stessa linea parallela a quella della rete quindi sono già pronto a inserire le mani oltre al filone del nastro però è la più lenta l'incrociato è più rapido perché è molto più simile alla motricità umana però cosa succede nel momento in cui io mi sposto in via perpendicolare rispetto alla rete dovrò essere bravo a riportare il piano di rimbalzo in maniera più precisa possibile vi ricordo che questa azione va fatta mentre dall'altra parte si gioca devo capire dove sta andando il pallone leggere la traiettoria vedere qual è la scelta di tecnica più adatta a quel tipo di situazione implicare gestire stimolare le varie situazioni in maniera da arrivare con la tecnica corretta nel punto corretto con l'esecuzione corretta tutto per fronteggiare pochi decimi di secondo abbiamo poi un'altra classificazione che viene definita il muro in lettura o il muro ad opzione il muro in lettura è quella condizione in cui il giocatore aspetta l'uscita dell'alzata per dirigersi nella zona di ingaggio dove io devo andare a applicare il fondamentale oppure c'è la parte ad opzione il giocatore anticipa lo spostamento su una previsione statistica su quello che secondo quello che è il dettame dello studio di gara oppure di quello che sta succedendo effettivamente all'interno del campo e quella che potrebbe essere la probabilità che il pallone vada in una determinata zona quindi cosa faccio? anticipo lo spostamento per essere più organizzato nel contrasto anche la tecnica tra le due condizioni varia varia perché? perché ci sono degli aspetti che sono più confacenti o all'una o all'altra nella fattispecie sul muro ad opzione le braccia sono già più vicino alla linea superiore del nastro le gambe sono leggermente ad un angolo più aperto tra coscia e gamba propriamente detta in maniera da essere più aggressivo e più veloce nell'inserimento e poter anticipare l'inserimento del piano di rimbalzo nel campo avversario nel muro a lettura si tende ad abbassare un po' le braccia e iniziare ad essere più carichi sulle gambe a un angolo un po' più chiuso pronti a dirigersi nella direzione in cui verrà distribuito il pallone la combinazione e la gestione di questi aspetti è estremamente coordinativa e dettata da tanti aspetti fondamentali primo tra tutti il tempo il timing se io anticipo troppo se io ritardo troppo o il pallone è ancora ad arrivare o è già passato vi ricordo decimi di secondo quindi calcolare bene queste situazioni è un allenamento su cui la piattaforma neurale è estremamente sollecitata essere bravi a lavorare coordinativamente ci fa migliorare nel gesto specifico migliora la capacità di lettura poi ovviamente ci sono delle antropometrie tanto più le braccia lunghe tanto più sono un saltatore tanto più mi si alza la possibilità di essere efficiente ma attenzione io posso essere un saltatore finché voglio posso mettere le mani all'altezza che ci pare però se non sono capace di prendere bene il tempo e leggere la situazione non sarò capace di fruire del fondamentale ma questo avviene anche in altri sport pensate al 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 rimbalzo nel basket all'uscita del portiere sul calcio d'angolo sul cross nel calcio all'afferrare il pallone nelle tush del rugby è ovvio che se io non ho uno spiccato timing una spiccata capacità di leggere la situazione sotto il profilo coordinativo leggere le distanze capire quando è il momento di staccare per poter afferrare o per poter contrastare nel caso specifico del muro la mia altezza le mie quote di salto sono del tutto inefficienti del tutto inefficaci non servono a niente e poi c'è l'intelligenza di tipo sportivo cosa significa e qui torniamo sempre all'idea di dual task all'idea di capacità di gestire più stimoli contemporaneamente capire dove sono i miei compagni e capire che cosa passa nella testa degli avversari ci sono momenti in cui ci sono giocatori che hanno un'efficienza più elevata sono più serviti io parlo in questo caso del campo da pallavolo posso prendermi vantaggio da questa mia percezione intelligenza sportiva significa essere più veloce a pensare e come faccio a essere più veloce a pensare allenamento cognitivo allenamento coordinativo sono più veloce a pensare perché la struttura è più abituata a farlo e sono più veloce a pensare perché se sono abituato a farlo sono più economico nel farlo riesco a rispondere in maniera più efficiente a degli stimoli che mi costa meno energia poterli gestire questo è l'intelligenza sportiva questa è l'intelligenza motoria che è strettamente correlata in questo fondamentale che però poi ovviamente è ad ampio spettro rispetto a quelle che tutte sono le situazioni di tipo sportivo però parlando di questo fondamentale specifico è evidente come ci sia una correlazione e un'esigenza di cui adesso siamo consapevoli sappiamo che abbiamo bisogno di avere per poter far sì che il gesto venga condotto in maniera pulita precisa adeguata ed efficiente basta interrompo la condivisione dello schermo eccoci qua beh la parte del fondamentale poi se vogliamo è anche semplice no? è anche abbastanza fruibile però abituarsi a leggere le situazioni sotto un'altra lente è comunque un esercizio che vi fa bene è un esercizio su cui voi dovrete martellare per diventare degli allenatori non solo bravi ma soprattutto consapevoli sapere cosa state andando a combinare sapere che cosa sono le cose di cui avete bisogno per veramente incidere per veramente essere in grado di applicare lo stimolo in funzione di quelle che sono le esigenze dell'atleto singolo della squadra e via di certo basta questo era quello che che avevo da dire domande dubbi perplessità se ci sono questa è un pochino più facile più semplice poi più che altro da studiare per qualcuno di voi magari è più immediata per altri dovete studiarvela perché comunque facente parte del programma però forse un pochino più semplice ovviamente rimaniamo rimango a disposizione per anche le prossime settimane per poter parlare per poter eventualmente ricalcare se dovessero insorgere dei quesiti anche riguardandomi la call riguardandomi il materiale mi sembra che non ci sia altro a questo punto io vi congederei vi saluto vi auguro una buona Pasqua che ci vediamo dopo la festa per chi la fa e niente ci riaggiorniamo la prossima settimana stesso giorno stesso orario spero di potervi già portare delle informazioni per quella che è la cosa che vi dicevo in via preliminare all'inizio di questa call per quanto riguarda l'eventuale esonero e con modalità tempistiche e quant'altro io vi ringrazio vi saluto e ci aggiorniamo la prossima settimana buona giornata grazie a voi arrivederci buona Pasqua buona Pasqua arrivederci buona festa a te a te buona Pasqua